Allora buongiorno da Italia Zolo 4 Victor Quebec Sierra vinco quasi sempre e quasi che mi frega tanto per cambiare attivazione sotto Monte Favei Italia Tango Oscar 0,17 si parte dal Passo dei Due Santi e fa il corso breve lungo la pista da sci e si arriva alla venta di Favei intorno a 1.450 ok siamo in vetta qui è un ripetitore non mi ricordo la sigla è un RU in 70 cm in 2 metri la vetta grosso modo è qui perché è abbastanza spianato e cerco una postazione direi qua qui al termine degli impianti di risalita è corta ma zio mucca si rampa e passiamo stesso nella radio Grazie a tutti andiamo a trovare un posto mediamente comodo andiamo a trovare un'occhiata a posto ok l'italia azzurro 4 victor quebec sierra portatile qrp roger mattia 59 più più per te se ti interessa ti passo referenza sota italia tango oscar 0 17 qsl italia azzurro 4 victor quebec sierra portatile qrp adesso cerchiamo una frequenza apparentemente libera allora buongiorno italia chilo 1 delta florida hotel 59 qsl allora italia chilo 1 giuliette november papa qsl ok italia whisky 2 oscar eco victor 59 qsl allora italia chilo 6 eco romeo charlie 59 cq sota cq sota cq sota italia zulu 4 victor quebec sierra attivazione sota italia tango oscar 0 17 qrz charlie zulu quebec avanti grazie bravo papa bravo papa avanti india zulu 1 hotel chilo eco 59 mike delta foxtrot over oscar november 3 eco italy roger roger florida 5 mike golf sierra 59 qsl roger eco alfa 8 america portugale 59 oh ciao manuel eco alfa 2 delta tango 59 roger eco alfa 3 eco alfa 3 eco bravo giappone qsl eco alfa 3 eco victor lima 59 delta lima 8 delta x-ray lima 59 delta lima 8 delta x-ray lima 59 e please stand by only station qrp only station qrp over oh ciao giovanni stazione qrp 59 ce la fai anche a passare il fischio di quel poveretto avanti pure roger e ontario napoli 7 zulu milano 59 qsl allora italia 4 giuliette oscar guatemala corretto ok italia zulu 8 italia zulu 8 domodossola firenze ontario ispetta 8 domodossola firenze ontario italia 2 charlie zulu quebec 5 9 reali eh 9 alfa 1 alfa 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 benvenuto buona giornata 59 più qsl ciao 73 qrz allora italia chilo 3 sierra golf lima 59 roger e italia zelanda 1 mike chilo papa italia zelanda 1 mike chilo papa 59 più più qsl delta lima 6 mike sierra tango delta lima 6 mike sierra tango 59 qsl mike oscar tango avanti perfetto italia uniform 5 mike oscar tango 59 qsl o col buongiorno italia chilo 1 golf papa golf 59 e e e e e e ecco alfa 3 ecco bravo giuliette 59 questa delta lima e delta x3 lima 59 italia tango 9 avanti o ciao manuel ecco alfa 2 delta tango anche in 20 metri 59 ero di non aver occupato la frequenza di qualcun altro ma la frequenza mi sembrava libera scusatemi nel caso cicusota cicusota italia zulu 4 victor quebec sierra portate le qrp cicusota ecco alfa 3 bravo victor 5 9 questa summit to summit summit to summit grazie enrico italia zulu 4 victor quebec sierra italia zulu 4 victor quebec sierra referenza sota italia tango oscar 017 oscar ecco for over oscar ecco for chewing at hotel whisky good morning for parkson here again again oh buongiorno è italia zulu 5 giuliette lima foxtrot 59 qsl claudio allora abbassiamo dunque 40 metri in 20 metri nel traffico mi dispiace che in 20 metri occupato ma senza accorgermene la frequenza di un collega attivatore italia zulu 3 colpa e il oscar sierra mi scuse assolutamente non volevo e si è creato un po di confusione la frequenza mi sembrava libera io faccio sempre la chiamata prima per accertarmi che la frequenza fosse libera si sta alzando il vento e il medio dice che dovrebbe iniziare a piovere intorno alle 11 quindi vediamo un po' io adesso invece devo scendere con questo tempo grazie 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 grazie